che cosa avete sentito un botto tremendo un botto tremendo sera dalla parte di là dove c'è i bestiame ci siamo girati si è visto un fungo praticamente un fungo atomico ecco sì insomma siamo impauriti pensa che doveva andare a prendere la birra prima ecco sono salvo per miravolo c'erano anche dei bambini quindi sì anche il mio anche io si è qui in macchina guardi ecco lì niente appunto mi ha preso paura per quello poi siamo corsi qua c'è anche un amico c'è uno stand appunto della birra pensavo del suo e niente sono corso qua a vedere andati in fumo in pochi secondi anni di lavoro lo stand che vedete alle mie spalle di una birreria artigianale della provincia di Arezzo ha appunto subito questo pesantissimo incidente una bombola di gbl che evidentemente c'è stata insomma una fuoriuscita e poi c'è stato questo terribile scoppio ci troviamo a cavriglia dove è in corso una festa paesana e ovviamente insomma c'è stata tanta paura una bombola da 15 kg che non era collegata agli utilizzatori che erano già in presenza di bombole correttamente innestate questa è una bombola di riserva adesso stiamo valutando sulle cause che hanno determinato questa fuoriuscita del del gpl con l'ado abbiamo trovato il tagliando scadeva il prossimo anno 2019 le condizioni sembravano potrebbe essere determinata da un vizio occulto del del metallo quindi soltanto dell'analisi potrebbero determinare con difficoltà si possono determinare questi vizi occulti che sono rarissimi due le persone che sono rimaste ferite marito e moglie dopo una prima valutazione all'ospedale della gruccia l'uomo è stato trasferito a pisa ha riportato ustioni di primo e secondo grado mentre la moglie è stata trasportata a pisa in ambulanza per una consulenza teniamo a ribadire che il problema insomma soprattutto ha coinvolto loro non ci sono stati danni per altri non ci sono danni chiaramente per la manifestazione anzi quindi la manifestazione per fortuna va avanti prosegue ci saranno tante cose ci dispiace soprattutto per la paura soprattutto per i presenti e poi per loro perché chiaramente hanno visto andare in fumo i loro anni di attività oltre che poi il rischio per la loro incolumità